Una cosa che noto nelle persone ferite, in particolare nelle donne, perché sono loro che me lo chiedono, soltanto loro, gli uomini questa cosa praticamente non la fanno mai, è la sete di vendetta. Soffro per amore, mi rendo conto che quella persona, quel ragazzo, non ha tenuto conto delle mie emozioni, magari mi sento usata, e allora parte la sete di vendetta e automaticamente il messaggio a Luca Romito. Luca, come faccio a farlo soffrire? Fantastico. Ora, a parte il fatto che anche ci fosse un modo, dato che lo giudico moralmente riprovevole, comunque non vi aiuterei in questa strada. Ma la cosa importante da capire è che un modo non c'è e il motivo è molto semplice. Nel momento in cui siete voi le persone più innamorate, quindi avete sete di vendetta, non avete proprio la forza di far soffrire l'altra persona che è meno innamorata, o magari non lo è proprio. E anzi, quello che succede è esattamente il contrario. E cioè, il voler far soffrire l'altra persona, ovviamente, vi porta a investire. A investire i vostri pensieri, le vostre energie, le vostre azioni. E quindi il risultato qual è? Quando una persona investe, che si innamora ancora di più. Quindi, paradossalmente, il voler far soffrire l'altro vi porta soltanto a... Soltanto? Soltanto a innamorarvi sempre di più di quell'altra persona e quindi a soffrire ancora di più. È lo stesso principio del gioco d'azzardo. Quando voi giocate alle macchinette, spero non lo facciate, ma quando lo fate e perdete, la sete di vincere e riguadagnare vi fa giocare ancora di più. E quella macchinetta è fatta per farvi perdere. Così come quella persona è fatta per rubarvi le emozioni. L'unica cosa che potete fare è alzarvi e andare via. Così come quella persona è fatta per rubarvi le emozioni.